Buongiorno, siamo ad Autocentri Balduina, la più grande concessionaria della capitale. Oggi è un evento particolare organizzato per le vetture chilometro zero, vetture chilometro zero che offriamo con uno sconto superiore al 30%, è un evento unico per oggi e domani, non potete non presenziare, non potete non venire a trovarci. Offriamo oltre 100 vetture dei marchi che la concessionaria rappresenta, Volkswagen, Audi, Skoda, Kia. E vi dicevo tutte con sconti incredibili, incredibili perché oggi acquistare una vettura nuova con oltre il 30% di sconto è veramente un evento e l'abbiamo voluto festeggiare. Qui presentiamo la gamma Audi, il nostro fiore all'occhiello, il marchio premium più prestigioso insieme a Porsche che rappresentiamo nella capitale. Queste sono le vetture che abbiamo messo a disposizione ma per problemi di spazio ce ne sono altre tante, che vi vorremmo far vedere ed offrire a questi prezzi incredibili e imbattibili. Vi domanderete perché offriamo chilometri zero? Offriamo chilometri zero perché sono vetture nuove a dei prezzi incredibili. Seguitemi che vi dimostro. Questa è Skoda Fabia, è la vettura con motore 1000 benzina a 60 cavalli al vertice della sicurezza. Un'e vettura 5 stelle Euro Cup nella prova di crash. Come potete constatare il prezzo della vettura nuova di fabbrica è inferiore ai 10.000 Euro omnicomprensivo. In questo prezzo abbiamo inserito anche il trasferimento di proprietà che costa qualche centinaio di Euro. Questa è una delle migliori offerte che abbiamo. Nelle vetture a miglior prezzo abbiamo anche la Volkswagen App, la City Car per eccellenza, 3,50 metri di ingombro, motore 1000. Questa è la nuova app appena immatricolata, vettura da 14.300 Euro chiave in mano che noi offriamo a chilometro zero, compreso il passaggio di proprietà, a 10.200 Euro omnicomprensivo. Questo vuol dire un abbattimento di prezzo di oltre il 30%, incredibile oggi sul mercato. Nessuna a chilometro zero ha un prezzo come il nostro.